Buongiorno a tutti, allora Filpettina da Brrrr che freddo che fa perché dobbiamo parlare della discesa libera maschile di Val Gardena del 18 dicembre 2021. Bando alle ciance, ciancio alle bande perché se no facciamo notte. Il primo a scendere è Stridiger, 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 l'austriaco. Vediamo quale sarà il suo tempo che diverrà naturalmente a riferimento per tutti gli altri che scenderanno dopo. Il suo tempo è 2,02 e 56. Sinceramente attendiamo gli altri perché qualche errorino l'ha fatto, però ha fatto anche correre gli uscì, quindi è da vedere. Dopo la discesa di otto concorrenti nessuno è riuscito a stare davanti a Stridiger, il che vuol dire che ha fatto una buona gara, anche se bisogna dire che i migliori arriveranno dopo il decimo, tra cui col pettorale 11 c'è lui, il vincitore del giorno prima il buon Kilde. Comunque con il pettorale 10 scende Bennett per provare a scalzare l'usciatore austriaco e per il momento, come dicevo, si sta godendo. Ah, buona gara dello sciatore americano e primo con 14 centimi di vantaggio. Eh, signori miei, ne sono scesi dieci, ne devono scendere una decina, ma di questi fortissimi fortissimi non ce ne sono tantissimi, ce n'è qualcuno ancora tra i venti che potrebbe essere pericoloso tra il ventesimo e il centesimo, però potrebbe aver prenotato le prime cinque posizioni il buon Bruce Bennett, Bryce Bennett, Bruce Bennett, il buon Bennett, diciamo il buon Bennett. E adesso, adesso, e scende lui, con il pettorale 11 scende Kilde, vincitore del Super Jig del giorno prima e favorito anche per questa, per questa gara. E l'inizio era molto positivo, sempre in luce verde, terzo intermedio in luce verde di 82 centesimi, sembrava ormai pronto a fare un'altra garona come il giorno prima, dare un secondo a tutti, eccetera, invece dopo il terzo intermedio in luce verde di 82 centesimi va troppo largo, mi va largo, slarga troppo e butta via la cara e aveva 86 centesimi, non 82, 86 centesimi di vantaggio al terzo intermedio. E arrivato giù doveva fare, eh, l'ha presa, l'ha preso, l'ha preso la tangenziale praticamente e non è più riuscito a stare in gara. E quindi, mannaggia, mannaggia, butta via una vittoria che sembrava ormai in saccoccia. Eh, vabbè, mica sempre si può vincere. Con il pettolare 13 tocca al nostro Dominic Paris, con Kilde fuori, può prendersi il podio e invece no, ci va vicino, ma non ci siamo. È solo quarto, con 40 centesimi di ritardo, un'occasione persa, signori miei, però comunque un quarto posto, è sempre un quarto posto. Siccome non è un'Olimpiade, un mondiale eccetera eccetera, ma è una gara, va bene. Se fosse stata un'Olimpiade e una gara, ti rimaneva la mano in bocca, perché questa era una grande occasione, una gara importante in cui porti a casa la medaglia, per l'interno, medaglia, medaglia, la medaglia, come direbbe il buon Matli. E invece quarto, che va bene, dai, diciamo che va bene. Con il pettorale 16 scende il nostro veterano in Nerofer. Gara così così, però lui non ama molto la Val Gardena, eh, dicevano che per lui arrivare già nei 15 in Val Gardena fai salti alti un metro. No, scherzo, perché alti un metro non li puoi fare, però fai salti, sarebbe strafelice. Per ora è decimo, ne sono scesi i 16 con lui, forse, forse potrebbe anche riuscire a stare nei 15, chi lo sa. Ritardo di 1,21 vedremo alla fine. Sarà dura però mai perdere le speranze. Con il pettorale 27, perché nessuno riesce a scalzare dal podio il buon Bruce Ben. Anche Freud si deve arrendere con il quinto tempo, finisce dietro anche al nostro Paris. Vediamo cosa combina il nostro Marsalia, che nelle prove è andato come un missile e speriamo quindi che riesca a stare nei 15, sarebbe tanta roba a entrare nei 10. E invece no, lui è bravo nelle prove, ha fatto il miglior tempo, eh, Marsalia è su per qua, su per su, su per giù. Gara da dimenticare, è ventiseiesimo con 4 secondi e 22 di retardo. Un'enormità trappi errori, un'errore anche dell'ultimo tratto, inguardabile, inguardabile. Caro, caro Marsalia, qua bisogna migliorare, eh, perché se no ti boccio. Con il pettorale 30 scende il nostro Buzzi. Male anche lui, con spavento finale perché cade, pettorale 32, scusate. Non 30, 32, il nostro Buzzi, che fa male, 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 perché ci fa anche spaventare perché mi burla già, mi cade proprio sul traguardo, eccetera, eccetera, che non è mai bello quando si cade sul traguardo. Poi si rialza, niente di grave, però il suo ritardo è abissale. Certo, non come quello di Matteo, di Matteo Marsalia, un centesimo, un secondo meno, 3 secondi e 13 di ritardo contro i 4 e 22, però è trentesimo, difficilmente riuscirà a rimanere trentesimo. Altra gara da dimenticare e non va bene perché non possiamo avere solo Paris. Con il pettorale 34 scende il nostro Mattia Casse. Speriamo in una bella gara del nostro sciatore, almeno lui. E le speranze sono state ben riposte. È stato bravissimo, è stato bravissimo, è nei dieci, al settimo posto, con soli sessantuncentesimi di ritardo. Gara mi consiglia da libidine. Per lui, eh? Perché se fosse stato un Kilda a fare una gara del genere dicevano, beh, che schifo. Però per Casse col pettorale 34, arrivare a sessantuncentesimi, il settimo posto, fa libidine. Ne sono scesi 34 con lui. Direi, direi, signori miei, che i primi dieci sono quasi sicuri al 99%, 99,9%. Il settimo posto, ci sono buone probabilità che resti settimo, perché ormai gli sciatori, a meno che c'è la super sorpresa che gli stiano davanti. Penso ce ne saranno pochi. Con il pettorale 45 tocca al nostro Mosca. Purtroppo l'unica nota positiva è che è finito fuori pista senza cadere e farsi male, perché per il resto, NCS, non ci siamo. È andato bene l'altro giorno ventunesimo in Super G, giorno prima, 17 di dicembre, un bel ventunesimo posto. E stavolta no. Eh, discesa libera, non ci siamo. Comunque, alla fine, questa è la classifica finale del discesa libera di Val Gardena del 18 dicembre 2021. Al primo posto abbiamo il buon Bettet, al secondo Stridinger che con il primo a scendere e alla fine è podio, è podio, signori, per il buon Stridinger. Al terzo posto abbiamo Interman, al quarto il nostro Paris, al quinto Feuze, al sesto Claret, 40 anni e non sentirli, più o meno, magari da 39, comunque è 81 lui, quindi presumo che oramai abbia 40 anni. Al settimo Cass, all'ottavo Franz, al nono Kline e al decimo Sander. Per quanto riguarda gli italiani, Interhofer è il diciassettesimo, gli altri sono tra il cinquantesimo e il cinquantasettesimo posto, gara da dimenticare. Meglio sorvolare, non vi dico neanche chi è il cinquantesimo, 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 perché non voglio aggiungere altra benzina sul fuoco delle ingiudie che gli arrivano per questo pessimo risultato. Quindi, signori miei, vedremo come è andata la gara della domenica, la domenica, perché anche domenica si è corso, si è corso a martedì, si è corso oggi, che è mercoledì, quindi ve le farò tutte, visto che c'è fermo il campionato, nei prossimi giorni e poi vi farò anche le gare successive, perché sicuramente potrebbero essere delle gare anche dopo Natale, sicuramente nel prossimo weekend gare non ce ne sono perché giustamente gli sciatori festeggeranno il Natale. Non so se ci sono delle gare a fine mese, prima di Capodanno, o se vado poi direttamente a Gennaio perché non ho ancora guardato. D'altronde devo recuperare ancora le gare di sabato femminile, no sabato femminile ve l'ho fatto, di domenica maschile e femminile, martedì e mercoledì che ci sono state altre gare, quindi piano piano ve le faccio tutte. Detto questo vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo la prossima. Ciao!